Fine partita con Roberts Kuczynski, numero 75 di Occhio di Lugano, una partita un po' strana, al primo tempo Zugo meglio, poi al secondo tempo avete dominato ma non siete riusciti a trovare la rete che poteva riaprire il match, poi nel terzo tempo ancora qualcosa di più dello Zugo. Sì, penso che è un peccato questa partita, penso che giochiamo bene in realtà, solo che prendiamo tre gol che sono più che altro una mancanza di concentrazione. È vero che anche per noi il disco non saltava nella nostra direzione, avevamo avuto tante chance ma non abbiamo potuto concludere. Tre partite, tre sconfitte, però soltanto tre reti realizzate, è un pizzico di sfortuna ma forse manca qualcosina. Sì, in squadra in realtà le tre partite a livello di punti sono in situazione grave, però in realtà quando guardiamo le partite siamo sempre stati molto vicini a livello di vincere una partita, però alla fine il tabellone non guarda come giochi, guarda solo il risultato. Tante assenze per lo Zugo, tante assenze per il Lugano, ma forse le assenze del Lugano hanno pesato di più in confronto qual è, dello Zugo. In realtà non penso che sia proprio il caso, la squadra è l'insieme della squadra che conta. Poi adesso abbiamo due aggiunti che sicuramente ci aiuteranno a migliorare il livello, a riprendere le forze. Adesso sono conto di rigirare le tre sconfitte di fila e andare a vincere poi la prossima partita. Quindi ci aspettiamo qualcosa venerdì contro il BN? Certo, sì. Penso che sarà una buona battaglia per riprendersi. Grazie.